fratelli sorelle amici cari buona giornata a tutti oggi è domenica benedetto sia dio per questo giorno che ci concede nel quale potremo nei nostri nelle nostre comunità celebrare il suo nome alcuni di voi lo farete stamattina altri lo farete pomeriggio non è importante l'orario ciò che è importante che siamo presenti in questo giorno per dare gloria a dio e per servire il signore leggiamo stamattina la storia di anania saffira la troviamo nel capitolo 5 degli atti sono i primi undici versi una storia triste una storia nota una storia che però ci dà l'idea chiara del fatto che col signore non si può scherzare ebrei 12 28 dice che dobbiamo offrire a dio un culto gradito perché egli è anche un fuoco consumante qui lo vediamo in modo chiaro la storia la conosciamo un po tutti sono questa sono questo uomo e questa donna anania saffira sposati che nel vedere gli altri che vendevano i loro beni e li davano o in beneficenza decidono di fare altrettanto hanno un possedimento e lo vendono però poi organizzano un inganno un inganno ai danni degli apostoli della chiesa dicono che stanno dando tutto il ricavato mentre nella realtà una parte la trattengono per loro è qualcosa che costerà la vita a entrambi ora il problema sia chiaro sin dall'inizio e questo chi legge la bibbia lo sa non è rifatto che avessero trattenuto una parte per loro stessi infatti leggiamo al verso 4 ed è pietro che parla con anania se questo non si vendeva restava tuo non sarebbe stato un problema non era un peccato una volta venduto il ricavato era a tua disposizione potevi darlo tutto potevi darlo una parte potevi trattenerlo anche per intero non era un peccato il peccato di anania saffira è stato la menzione è stata scusate la menzogna l'inganno il pensare di poter prendere in giro passatemi questa espressione la chiesa del signore fratelli sorelle noi dobbiamo essere attenti l'inganno la menzogna la frode non si addicono ai credenti e non sono una cosa gradita a dio nell'inferno c'entranno gli adulti i fornicatori gli stregoni gli idolatri gli omicidi i bugiardi anania saffira erano dei bugiardi erano degli ingannatori ricordiamoci che il primo ingannatore della storia biblica è satana che ingannerà adam ed eva quando c'è la menzogna l'inganno nella nostra vita noi possiamo anche dire di essere figli di dio ma nella realtà in quel momento stiamo praticando le vie di satana ecco perché dobbiamo stare attenti e ricco perché dobbiamo ricercare nella nostra vita la giustizia l'onestà la sincerità e anche oggi oggi che andremo nelle nostre nei nostri nelle nostre chiese scusate ad offrire il culto ricordiamoci che dobbiamo offrire un culto credito a dio e che dobbiamo adorare dio in spirito e verità non ci sia inganno non ci sia menzogna non ci sia ipocrisia nel nostro modo di accostarci a dio ci sia invece sincerità ci sia invece fervore zelo in modo tale che mentre celebriamo il culto al signore la gloria di dio scenda e scenda per benedire per operare in un modo miracoloso in mezzo a noi magari guarendo qualche ammalato magari liberando qualcuno da qualche visio magari salvando chissà forse qualche giovane magari i nostri giovani che stanno crescendo sì dio si manifesta laddove c'è un popolo che lo celebra con tutto il cuore e lo adora in spirito e verità anania e saffira faranno una brutta fine sappiamo bene che la loro vita si consumò in quel giorno stesso nella presenza degli apostoli e sappiamo che grande timore si manifestò venne su tutta la chiesa nel vedere quello che avvenne ora è importante che la chiesa viva nel timore di dio non nella paura ma nel timore di dio sì dobbiamo sempre ricordarci che dio è il nostro padre che dio è misericordioso che dio è buono che dio e tante cose belle ma dobbiamo anche ricordarci che dio è santo e tremendo e che gli anche un giusto giudice e che se è vero che egli manifesta pazienza è anche vero che egli non può tollerare che nella sua chiesa il peccato prende il sopravvento ed ecco perché certi interventi da parte di dio si manifestano perché egli vuole preservare la sua chiesa e ancora oggi egli vuole preservare la sua chiesa perciò ci aiuta il signore a sopra offrire la nostra vita a lui e a donare tutto noi stessi in modo tale che possiamo essere di giorno in giorno trasformati e cambiate all'immagine del suo figlio gesù cristo concludo concludo provando a fare un parallelo tra l'aspetto materiale e l'aspetto spirituale il peccato di anania saffira lo possiamo compiere anche noi non perché vendiamo un bene ne tratteniamo una parte per noi ma lo possiamo compiere quando dichiariamo affermiamo pubblicamente di aver dato tutta la nostra vita al signore tutto il nostro cuore mentre nella realtà ne tratteniamo una parte per noi lo facciamo quando ostentiamo di essere qualcuno che nella realtà non siamo quando vogliamo apparire come spirituali quando nella realtà siamo carnali quando vogliamo apparire come persone che sono dediti interamente a fare la volontà di dio quando nella realtà la nostra vita è impegnata nelle vanità di questo mondo il signore ci dia grazia di essere sinceri anche in questo e voglio dire a me a tutti quanti quelli che siete in ascolto questa mattina nell'andare in preghiere anche quando andremo in chiesa per celebrare il culto decidiamo di dare veramente tutto il nostro cuore al signore ne trarremo beneficio la gioia di dio riempirà i nostri cuori saremo veramente benedetti e di benedizione per gli altri vedremo dio operare nelle nostre famiglie nelle nostre vite in un modo meraviglioso vale la pena offrire offrire tutto se stessi al signore perciò fratelli sorelle offriamo il nostro culto a dio con sincerità con timore con tremore onoriamo il signore con tutta la nostra vita e che oggi possa essere per ognuno di noi una giornata benedetta una giornata in cui vediamo dio manifestarsi in mezzo a noi la sua grazia la sua pace il suo amore la sua guida sia con tutti quanti noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno dio vi benedica